E benvenuti ragazzi sono sempre Undergame e oggi siamo qui in un nuovissimo video qui su Clash Royale Oggi siamo qui in un video di spacchettamenti, dobbiamo aprire dei bauli Io vi invito prima di iniziare comunque a lasciare like, 10 like vi porterò un nuovo spacchettamento tipo di questo Come vedete tutti questi bauli, iniziamo dal baule omaggio, stanno da 3 oro, una goblin hat e poi 7 goblin Che schifo Poi ancora oro, elisir, il coso di elisir e il mortaio Bene, avremo adesso il baule della corona bellissimo Allora oro, tanto oro, 3 geme sprecate, 3 mortai Poi la valchiria, una valchiria che schifo e un razzo e anche degli scheletrini, buono Ok ragazzi accingiamoci ad aprire altri bauli Apriremo prima questo baule, il baule gigante Oro, tanto tanto oro Il pecca, bene, non mi lamento comunque, il pecca è una carta epica Ci sta, ci sta, anche se nel baule è grande, era ovvio Poi elisir, il coso di elisir, il restrattore e i mortai, sempre sprecati i mortai, vabbè Sempre sprecati come sempre, possiamo pure updatearlo Ok raga, comunque non c'è niente, queste sono le carte che ho, la mia fantastica card collection Li sono i mortai, che adesso non li aggiornerò, cioè non li so far assolire di livello Però io direi che è il momento di aprire gli altri bauli Suspense E gemmiamoli Ecco qui, oro, sprecato, frecce E goblin hat, la capanna goblin Bene, che munnezza Ah munnezza comunque, munnezza Ok raga, possiamo aprire pure questa magical chest sul mio secondo profilo Oro, frecce, belle frecce anche se sprecate Minion, pochi Spear goblin, anche questi pochi, ma dai mi aspettavo qualcosa di più Va bene, comunque Gli spear goblin secondo me sono molto utili, possiamo pure accreditare Poi la zap, utile pure questa secondo me Poi gli arcieri, gli arcieri molto versatili comunque come carte Non li possiamo ancora migliorare La torre inferno, la torre inferno la gradisco E poi c'è il principe raga, poi c'è il principe Diciamo così così, nessuna leggendaria Però che schifo, in arena 6 ci sono le leggendarie Vabbè, comunque ragazzi, io spero che i suoi video si sia piaciuto In tal caso lasciate like, iscrivetevi al canale Comunque per queste cose non ho shoppato Ho solo vinto dalle battaglie E niente, condividete, iscrivetevi, attivate le notifiche Noi ci vediamo come sempre alla prossima Ciao ragazzi